Buonasera a tutti ragazzoli bentornati su Hattigaming, oggi siamo ancora qui su WarZee e siamo io, Icewing, Sensino e Matti che si chiama Shizuke Shizuke Grazie per la bella presentazione O per prima te ti ignorano tu Allora siamo arrivati in questo piccolo punto malefico Guardate quanti cazzo di zombie ci sono è una cosa impressionante però confidiamo nel cuore delle carte Oggi chi è Kasparo? E' Kasparo? Dario Rackpard No, 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 fa Endshot Sì, no, dai Allora, lo dice questa fa con Endshot da un metro di distanza troppo Dai, c'ho pure il Red Hot Sì, guardate il mio fucile, lo fa voler da così Guardate Fico, c'ho il Red Hot, l'impugnatura, il silenziatore Guarda, è una sinistrazione di questo Eheh Eheh Allora 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 Le magiche avventure su WorldZip Noi ma che non siamo così spiettati da ucciderlo con un verbo Sì, però se ci va dritto davanti al di zombie, le magiche avventure su WorldZip Non mi scordo per 5 minuti Eheh Diventano le fantastiche banchettate su WorldZip Eheh Io non ho provato un fucile col silenzitore Che dico Minchia, tanto silenzioso che l'ha sentito quello di fianco Vieni, affronta il mio martello mortale Eheh Eheh Me lo trovate sul nostro canale di Youtube Io sono un puttanaio raga E tu che sei voluto venire qua? Eheh Così metteremo insieme insomma un clan su WorldZip useremo un ts ee e giocheremo tutti insieme quindi non esitate a contattarci Useremo un ts Oh soldi Barca troia Zombie Zombie Tranquillo Ma è stata una grande idea a scattare Chi è che ha sparato? Guarda che c'è un cartello che posso sparare adesso Oh soldi Grazie Oh mio Dio Ma chi è che sta sparando? Ma sei sì, sei un sadico Guarda ma tu non c'hai il silenziatore Oddio Ho pure messi il miato Eheh 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 Dai Eheh 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 Forse io Ah grazie comandolo mi devi una cura Ah A te Eheh 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 Madonna che casino E meno male che siamo in quattro altrimenti tienimo ma le auto si sa più quando le implementeranno cosa sono le auto? ringrazio che hanno messo le skill ha invece ragione in teoria questo cammincino che vedete davanti a me aspettate perché adesso sono un po' impegnato non è un cammincino, è un blindato di trasporto militare comunque abbiamo preso questo blindato di trasporto militare che vedete davanti a me intanto quell'oro si uccidono con i zombie, ve lo faccio e lo mostro allora aspettate che intanto approfitto anche di una cosa ok se sì ma ce n'è uno di tanti erano più importanti soldi venga mi sembra Shizu ok allora questo cammincino che vi dicevo vedete davanti a me questo sarà una delle auto che in teoria si potrà avere un'altra parte oddio venite qua c'è un problema qui c'è più del problema dietro 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 perchè spuntano sti qua eh c'ho pure spara perchè ho pure chiappa voi oh io non li so porto sti qua che ti spavano dietro oddio ci sono proprio troppi però oh io prima qui ci sono anche a te ti hanno preso va bene nooo ah se si oh guardate l'altro successo coltivo ho tentato di oh oddio mi dobbiamo sparare ma perchè sono sparate sono troppo questo suo capodanno oddio si si non sai esattamente si ma non ci sparare addosso cazzo ma non so io che sparare oddio oddio aiuto aiuto che idea del cazzo oh manca fai e bunga bunga qui e bunga bunga oddio sono morto sono morto sono morto sono morto sono morto sono morto l'avventura su una macchina per il suo posto cosa per il culo regazzo per il culo prego prego io sono morto aspetta io sono come scuola per salvare io la macchina per cui su un giro la macchina per cui su un giro non potremmo salvare un po' prima mattina oddio ma perchè sono tutte qui da me scusate non lo so però prima ero tutte qui da me vabbè che stasso scusa mattina che a meno riprendimi la mia roba ma tu sei morto si sono morto io tanto mi ammazzo tutte così troppo peso mi dici e piglia ti ringrazio ai numeri aspetta aspetta l'augurio guarda quanto le sto fa fuori ho fatto il montino è male quindi sono già uscita la macchina avventura su un z non posso prenderti da quel video però e rientra rientra e con butto via l'elmetto pianto vigilia non c'è 9 qui vicino sono tutti lontanissimi no no vabbè resta collegato sulle magiche avventure di warzee non potevamo far video con Mirko morto prova vedere che siamo un altro qui gine alle vicinanze no ok io sono vivo con poca vita ma sono vivo oddio comunque erano una cosa impresa c'erano tantissime erano e poi quello che non è capace del fatto perché ci mettono sei miliardi zombie per un lutto del cazzo per quattro pacchette valatini c'erano 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 139 detto che però dovete ringraziare per il mio sacrificio che vi siete salvati no te ne sei portati via due te ne sei portati via gli altri erano tutti quattro cicci no ancora no le ho grattino maggior parte io sparandoci contro se no se si era già morto no ma io io ho un aspetto io ho finito due caricatori eh da k adesso non c'ho più un cazzo per spararlo ma perchè gli hai sparato perchè io ho sparato perchè me ne ho assalito a parte che il comando ci hai sparato addosso a miei sensino e l'ha preso dal panico era per protezioni ancora c'è qualcun altro qui pura pura ti sparo era perchè povero si ha salvato sono scappati fuori quelli con il trinino di capodanno sono scappati fuori ah beh beh bello io per salvarti ti sparo ma che li ha facinato il trinino di capodanno? no e quindi ci mi tocca la reggi in qualche modo eh da quinto possiamo andare da campo un city sono invitato al gruppo ok allora facciamo così le magiche vendita da gruppo io e te ma se non ci sono i c'è una destra una destra una destra ah no no prima che avevo visto un merito eh avevo visto Icewind come ho io eh che cacchino che sentiamo con Icewind World oddio il tramonto allora ragazzuoli facciamo noi fermeremo qui la prima parte delle magiche avventure su Wars ma le continueremo e andremo ad esplorare Campon City così proprio alla bene in meglio però prima no no prima aspetteremo Mirko che ci si riunirà a noi e comunque vi ripeto per giocare con noi se vi fa piacere a noi fa piacere se vi fa piacere anche voi insomma eh contattateci direttamente su Steam aggiungeteci su Steam su Steam ehm vi metterò in descrizione il il mio contatto e poi comunque sia troverete il gruppo degli Atti Gaming direttamente sia su Facebook che che su Steam con i link sul nostro canale di YouTube e oltretutto devi anche specificare che se volessero entrare nel nostro TS se c'è il gruppo su cui iscriverci sul forum ah si si quello vabbè quello è una cosa che poi vi diremo pian piano insomma per utilizzare il TS se volete giocare con noi perchè TS è in condivisione con Attic Games e OneGamersFade eh si si eh un saluto a tutti ragazzuoli ciao 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 ciao